Cari fratelli e sorelle, vi ho mandato un messaggio, volevo farlo personalmente, a piedi, siccome non è possibile manco a piedi, ve l'ho mandato. Sapendo però che io vi sto vicino, prego per voi, vi auguro ogni bene e soprattutto come me, dovete avere coraggio e pazienza. Dà a tutti un abbraccio, da parte mia, forte e coraggioso con la benedizione, per l'indeccessione della Vergine Maria, vi benedica Dio di potenza e avvenibile di ogni male e di ogni peccato, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte.